Cosa è il narratore oniscente? Perché il narratore è oniscente quando il narratore è oniscente? Il narratore, nel testo narrativo, è colui che racconta la storia. Se è oniscente, vuol dire che sa tutto della storia, sa ciò che accadrà e sa ciò che è accaduto, può andare nel futuro, nel presente, nel passato, sa tutti i pensieri di tutti i personaggi, sa tutto di tutti. Il narratore oniscente è una tipologia di narratore in cui il narratore sa tutto della storia che viene narrata. Un esempio tipico di narratore oniscente è il narratore dei Promessi Sposi. Ciao, al prossimo video, vi aspetto! Grazie! Grazie! Grazie!